Con Carlo Albini di ePublic parliamo di siti web per la pubblica amministrazione, in cosa si differenziano i vostri siti per i comuni italiani? Il sito internet a proposto da noi utilizza una piattaforma comuni a molti comuni, oltre 400 sono gli enti che utilizzano questa soluzione, è una soluzione che a differenza di molte altre non utilizza dei CMS, dei content management system generici ma specifici, nel senso che sono proprio calati sull'ente pubblico, quindi anche per quanto riguarda il sindaco, gli assessori, gli impiegati che andranno ad utilizzare il nostro strumento si trovano ad una soluzione molto semplice e facile da utilizzare, a differenza di altre soluzioni che invece comportano l'utilizzo di sistemi molto più complessi. E quale grandezza devono avere i comuni per utilizzare questo sistema? Noi lavoriamo con comuni che vanno da 100 anime, quindi piccolissimi comuni, fino a comuni tipo Carmagnola che ne hanno 30.000, quindi è una soluzione che va sia per i piccoli che per i grandi comuni, nel senso che considera tutti quelli che sono i requisiti normativi e di conseguenza è per tutti. Grazie